Presidente, ultima cosa, lei che mi permetta amante del caffè napoletano, come fa che adesso a Napoli è tutto chiuso con la zona rossa e i bar chiusi? Va bene, tutti dobbiamo fare qualche sacrificio, spero che il prima possibile con un comportamento anche responsabile da parte di tutti riusciremo ad andare presto in un bar, sederci e prendere un buon caffè napoletano.